Benvenuti e bentornati su Medioevo Militante, storie di medioevi e medievalismi dal quinto al ventunesimo secolo. Oggi un episodio un po' particolare perché non ho uno script, non è un episodio di ricerca, è un episodio di resoconto degli ultimi mesi e di programmazione per il futuro. Siamo a inizio ottobre 2022 e quasi ad un anno dal ricominciare ad avervi revitalizzato questo canale direi che è ora di tirare un po' le somme e soprattutto programmare il futuro, cosa che finora purtroppo non ho ancora avuto modo di fare. Io sono Thomas DeMaldè, la voce è in realtà anche l'anima di tutto il canale, se mi seguite su altri social, io sono molto, forse troppo attivo su Twitter, sapete di sicuro che io in questo momento ho appena ricominciato a studiare all'Università di Bologna, sono alla magistrale di scienze storiche dove sto approfondendo i miei studi sull'epoca medievale. Prima di dirvi però cosa vi porterò in futuro ci tengo a farvi vedere cosa ho fatto fino ad ora, in modo che voi possiate magari recuperare un po' di contenuti che non avete visto o non avete ascoltato nel caso i ritmi di lavoro dedicati al canale debbano un pochino rallentare. Prima serie di video che vi consiglio assolutamente di recuperare è quella dedicata alla lettura in diretta della storia dei Longobardi di Paolo Diacono. Associato alla storia dei Longobardi di Paolo Diacono trovate una brevissima playlist di due episodi dedicata in generale alla storia dei Longobardi dove vi è la lettura di due paper molto interessanti appunto a tema Longobardo. Passando invece ad aprile 2022 una cosa che molto probabilmente non avete visto perché non è una playlist che ha performato particolarmente bene, forse a causa del modo in cui l'ho pubblicata, c'è l'audiolibro, è un audiolibro, non è una lettura in diretta, di Renato Bordone, Uno stato d'animo, un libro estremamente interessante che tratta dello spazio mentale degli abitanti della città e dei contadi dell'epoca comunale. Assolutamente recuperatelo perché è veramente un gran bello ascolto. Segue per quanto riguarda gli audiolibri il testo di Andrea Zorzi, a cura di Andrea Zorzi, La civiltà comunale italiana nella storiografia internazionale, dove per l'appunto si osserva il racconto della civiltà comunale con gli occhi di Francia, Spagna, Inghilterra, Stati Uniti e Germania. Veramente anche questo molto interessante e per fortuna un po' più di successo rispetto a quello di Renato Bordone. Recuperatelo comunque se non l'avete ancora ascoltato. Dedicandoci invece alle playlist tematiche abbiamo quella sul medievalismo, vale a dire sul racconto del medioevo dopo la fine della cosiddetta epoca medievale. Molto interessante per quanto breve ma ho qualche idea su come espanderla. E in ultimo la playlist dedicata alla storia del comune medievale, dove invece troverete praticamente i video più recenti. Ho provato a strutturare storia del comune medievale in questo momento come una playlist anche dedicata alle origini delle istituzioni comunali. Ovviamente in realtà vuole essere una playlist più ampia e soprattutto in questo momento il concetto di ricerca sulle origini del comune viene un attimo messo in pausa, messo in pausa nella pubblicazione, ma non certo nella ricerca e nello studio. Vi sto preparando qualcosa di nuovo. Tutti questi contenuti li trovate anche pubblicati in formato puramente podcast su Spotify. Basta che andate a cercare il mio nome e il mio cognome all'interno di Spotify, appunto Thomas de Maldè, e dovreste trovare tutti i vari podcast che io ho pubblicato. Per quanto riguarda il futuro invece, in questo autunno-inverno 2022-2023 avremo tre cose principali. Una è la continuazione di storia delle repubbliche italiane della media età del medioevo di De Sismondi. Ho pubblicato già i primi due episodi, li potete assolutamente consultare e continuerò a registrare episodi e mi sa che ne avrò probabilmente per un paio d'anni. Però vediamo, vediamo cosa succede. Grande classico della storiografia francese dell'ottocento, De Sismondi e nella traduzione italiana, soprattutto quindi complimenti anche al traduttore che in questo momento mi sfugge, è una traduzione del 57-857, è veramente splendida, una penna incredibile, divertentissimo da leggere e spero altrettanto divertente da ascoltare. Assolutamente recuperatelo, è veramente veramente molto bello. Per quanto riguarda invece i contenuti tematici sto affrontando in questo momento il corso di storia dell'Emilia Romagna nel medioevo e uno dei libri nella bibliografia si presta particolarmente all'essere pubblicato per spezzoni, per sintesi qui su youtube. Pertanto i prossimi contenuti tematici saranno dedicati a Castelli e poteri signorili nella Romagna settentrionale dai secoli undicesimo al secoli tredicesimo di Riccardo Pallotti. Testo molto molto interessante, un po' tecnico, sarà impegnativo sintetizzarlo e renderlo un po' più fruibile, però credo che mi divertirò un mondo, assolutamente, e spero che vi divertirete voi altrettanto. E infine a dicembre sto preparando una nuova serie di letture live, anche se in realtà probabilmente inizieremo un po' prima di dicembre. Una lettura molto lunga, una lettura molto complessa che avrà anche delle sfide al suo interno, ma credo che apprezzerò io farlo e spero apprezzerete anche voi ascoltarlo. Si sta ovviamente parlando della cronica di Fra Salimbene, un testo che ovviamente io apprezzo molto, che ho utilizzato per fare la mia tesi e a cui sono veramente affezionato. Di conseguenza sarà un po' anche un'esplorazione perché purtroppo non ho ancora avuto modo di studiarlo tutto. Sarà un'esplorazione in diretta e comunque se mi seguite su Twitter, sia sul mio profilo personale che sul profilo di Medioevo Militante, che trovate linkati in descrizione, avrete modo di restare aggiornati al passo anche sulla pubblicazione, soprattutto di queste live, ma anche sulla pubblicazione di tutti gli altri contenuti. C'è poi uno spin-off narrativo di cui non ho parlato, che però forse porteremo avanti, ma non è detto, che è Sopravvivere nel Medioevo, un esperimento che mi sono divertito molto a fare, vi consiglio di andarlo ad ascoltare, è brevissimo, dura sei minuti, veramente molto molto bello, molto divertente. Vediamo se riuscirò ad andare avanti. E poi c'è un progetto sempre narrativo, un po' aleatorio, che si sta formalizzando e che vedremo se riusciremo a portarlo avanti. Vale a dire una parafrasi della vita Matildis, della vita di Matilde di Canossa, di Donizzone. La utilizzerò, farò la parafrasi dalla traduzione di Paolo Golinelli e mi auguro comunque che sarà divertente. Ho già dato una letta al testo, ad alcuni frammenti, sempre in ottica degli studi universitari, quindi storia dell'Emilia Romagna del Medioevo e credo che sarà molto molto divertente da fare. Quindi spero assolutamente di riuscire. Non c'è una data in questo senso e non vi assicuro, ad esempio, che sarà fatto nel 2022, o nel 2023 addirittura. Però, però, è lì c'è questa idea in testa e spero di poterla portare avanti. Ho detto tutto quello che volevo dire, quindi oggi il video è un po' diverso. Vi chiedo scusa se non è il solito contenuto. Spero che sia stato piacevole, però avere per voi anche questo riassunto è stato sicuramente molto interessante per me perché ho messo un po' il quadro della situazione davanti ai miei occhi. Seguitemi su YouTube, iscrivetevi. Seguitemi su Twitter e seguitemi sia sul profilo personale che sul profilo di Medioevo Militante. Così riuscirete a rimanere al passo con i miei lavori. Vi ringrazio per avermi ascoltato. Siete stati su Medioevo Militante, storie di Medioevi e medievalismi dal V al XXI secolo e noi ci vediamo probabilmente la prossima settimana o comunque nei prossimi tempi. Ciao a tutti!